bene super interessante adesso andiamo a mangiare tutti insieme ci hanno invitato a casa attraversiamo tutta la fabbrica e andiamo in una strada qua dietro dove c'è a casa loro ma non vi abbiamo detto un'altra cosa dopo l'ottimo pranzo ci hanno detto che qua hanno anche un'officina meccanica perché ovviamente loro hanno anche il camion che trasportano la legna e quindi devono essere attrezzati per qualsiasi venienza perché questi camion dal nord del ghana fino a qua al sud si possono rompere pezzi ovunque e quindi hanno l'officina e guardate un po' probabilmente riusciamo a sistemare l'ammortizzatore che abbiamo rotto abbiamo mangiato un piatto di pasta ma ci siamo messi subito poi al lavoro perché mi hanno detto che qua avevano quest'officina e quindi naturalmente ne approfittiamo hanno tutto torni prese possono perché riparano i loro macchinari anche i caterpillar con cui vanno nel bosco a fare i lavori con gli alberi e quindi qua riesco a farmi rifare le boccole che ho perso e il perno che si è rotto la prima fase che è necessaria per ripristinare l'ammortizzatore adesso che ha fatto il perno procede alla filettatura ok ragazzi il perno l'abbiamo fatto adesso bisogna rifare due boccole perché me ne sono perse è bellissimo vedere come man mano i pezzi prendono forma guardate qua sta replicando questo pezzo ragazzi ecco la prima delle due boccole finita e comunque doveva essere solo un giro in una fabbrica e invece è tutto sporco abbiamo quasi ripristinato l'ammortizzatore manca solo il tubo da sistemare dobbiamo trovare i raccordi giusti buongiorno equipaggio bentornati a bordo e bentornati qui in ghana siamo ospiti dei nostri amici ieri sera abbiamo cenato con federico suo padre sono stati gentilissimi hanno offerto una cena veramente fantastica e ci hanno dato anche questo posto dove parcheggiare guardate che bello qua fuori siamo su una leggera altura e riusciamo a vedere anche l'oceano la in fondo il golfo di guinea appare qua di fronte a noi hanno creato anche un terrapieno in realtà proprio di fronte alla spiaggia ci spiegavano che era per contrastare proprio l'erosione che stava creando l'eoceano che si stava mangiando tutto il territorio tutte le spiagge siamo ospiti qua a casa loro dove c'è anche la loro azienda che si occupa della lavorazione del legno ieri sera ci avevamo messi a favore di vento dell'oceano per godere un pochettino della frescura dell'aria che arriva dall'oceano non è che sia durata tantissimo perché poi a un certo punto è smesso però meglio che niente comunque continua a fare molto caldo e molto molto umido e vabbè ma se è la freak che dobbiamo fare non abbiamo ancora ben capito i programmi della giornata perché ci hanno detto che qui vicino c'è una cosa che potrebbe essere interessante vedere e magari questa mattina ci andiamo però appunto oggi credo che i programmi li faremo starà facendo ragazzi questa mattina iniziamo la giornata in modo un po diverso ieri abbiamo iniziato a sistemare il nostro ammortizzatore ma mi manca il tubo andremo con i ragazzi ci faranno portare credo in un posto dove forse possiamo trovare il modo di rifarlo bene il tubo l'abbiamo smontato da una parte abbiamo un banjo semplice un raccordo abbastanza standard questo non credo che si faccia difficoltà a trovarlo quell'altro non lo so perché è mobile ad innesto vediamo non ho idea se ce lo possono avere qua proviamo siamo in macchina e questo signore ci sta portando in città a cercare il tubo che ci serve e anche a fare un giro in una zona dove vedono dei ricambi adesso è una zona molto particolare simile a quella che abbiamo visto in marocco siamo arrivati c'è un quartiere con un sacco di attività commerciali c'è un negozio di idraulica sembra bello grosso vediamo un po grazie ma niente male non hanno il pezzo però dice che riescono ad aprire i miei ea richiuderli e a farlo meglio dell'originale così hanno detto quindi sembra che riusciamo a rifare questo tubo questa è una grande cosa almeno ci togliamo tutti insieme in realtà questo non mi aspettava un negozio hanno tutto dietro sento già che stanno splessibilando il nostro tubo bene ragazzi velocissimi l'abbiamo fatto poi lo monteremo Elvis ci sta dicendo che adesso ci troviamo in questa zona del mercato che è proprio in centro attacco e tutte le strade portano a questo mercato e dice che è l'unico mercato nell'africa dell'ovest ad essere fatto in questo modo questa era la parte del mercato centrale che adesso ci sono dei lavori ci siamo fermati un attimo perché qua si dovrebbe avere una vista privilegiata sul porto di Takoradi che è veramente grande questo di Takoradi è un porto un po' particolare perché fa parte di tutta un'area che è detassata si chiama proprio free zone gran parte della merce che arriva o che parte da qua non è tassata e quindi per questo anche proprio che qua ci sono tutte queste aziende estere anche che comunque importano ed esportano materiale bene ragazzi siamo pronti a ripartire ci vogliamo muovere per andare una settantina di chilometri da qua dove c'è una cittadina che vogliamo visitare molto importante ma adesso salutiamo Federico suo padre che sono stati veramente gentilissimi ci hanno anche aiutato a risolvere un bel problema è stato veramente molto interessante stare qua perché di tanta compagnia e quindi salutiamo anche questo posticino ringraziamo tutti i ragazzi dell'azienda sono stati veramente fantastici ok stiamo provando a caricare l'acqua il tubo deve andare lì dove c'è quel cisternone che è dove arriva l'acqua potabile e non c'è tantissima pressione però piano piano con la pompa dovrei farcela senza pompa era impossibile sono in delle condizioni oscente non si è bagnata la faccia sei proprio completamente sudata mi sto facendo schifo da sola bene sono stati gentilissimi qua ci hanno aiutato a caricare l'acqua adesso salutiamo i nostri amici Federico suo padre e poi partiamo questa azienda è veramente grande questo capannone è lunghissimo questa è l'officina che hanno per il loro camion salutiamo grazie di cuore grazie davvero è stato un onore onorissimo grazie grazie dovremmo percorrere una settantina di chilometri ci hanno detto che la strada dovrebbe essere abbastanza buona a parte i topes quindi un paio d'ore forse vediamo e qua le strade ancora non sono proprio buone eh eh no ci sono dei buchi infatti il sito pulma mi sa che c'è caduto dentro qui c'è una voragine guardate il camion ci è spromondato dentro da Takoradi siamo un city però è un susseguirsi di piccoli paesi abbiamo detto la densità della popolazione qua è elevata e quindi sei costantemente insomma tra paesi e mercati questo colore marrone dei fiumi ci hanno detto anche che molto spesso è causato da tutte le miniere che ci sono qua in ghana che risciacquano il minerale e quindi muovono tutta l'acqua e tutta la terra così inimmaginabile e ragazzi qua c'è una specie di casello si paga la strada forse mi sa che non si paga più grazie grazie abbiamo comprato quattro ananas ma neanche un euro ovviamente li portano sulla testa 6,30 6,30 2,50 euro no che tipo 2 euro poco più di 2 euro ma alla fine siamo quasi arrivati abbiamo lasciato la strada principale e stiamo andando in direzione di una fortezza che si trova qua sulla costa costa che veniva chiamata la costa d'oro dai portoghesi dagli olandesi dagli inglesi che qua sono venuti principalmente per portare via appunto l'oro e i portoghesi avevano costruito una fortezza che si trova proprio qua e pensate risale al 1490 è veramente antico ed eccoci qua sulla costa ora dobbiamo vedere se troviamo dove fermarci dobbiamo attraversare prima il paese e il porto e poi andare direttamente là dove c'è la fortezza ma guardate quanti ristorantini qua proprio sul mare questa fortezza è certamente un attrazione turistica importante e in effetti questo villaggio sembra decisamente turistico qui dobbiamo per volta svoltare a destra c'è un senso unico in effetti la strada è un po' stretta eccola la fortezza dei portoghesi e qua dietro c'è il fish market ragazzi credo che questa notte dormiremo qua nel parcheggio della fortezza del 1400 bene ragazzi ci siamo piazzati e credo che questa notte dormiremo qua nel parcheggio della fortezza del 1400 Questo è il castello di San Giorgio, San Giorgio Castel, che appunto è stato edificato dai portoghesi. Sembra bello grande quindi noi ci andremo domani mattina con tutta calma. Adesso magari ci facciamo due passi qua. Qui ragazzi mi sa che stanno partendo i pescatori. E qua il mercato è anche sotto il ponte. Questo è quello che abbiamo fatto con Valentino. Ripercorriamo la strada che abbiamo fatto con Valentino. Vogliamo andare in direzione del mercato del pesce. Super mixer e mega tasse qua. Siamo arrivati qua sul molo dove ci sono tutte le barche dei pescatori. Ogni paese ha le sue particolarità per le barche. Queste hanno quella parte esterna che serve per appoggiare il motore che sta lì di fianco. Guarda c'è anche la bandiera italiana. Come in Mauritania tutte le barche hanno la bandiera dei paesi. C'è quella del Canada, c'è quella dell'Inghilterra. Anche qua facciamo un po' fatica a capire cosa vendono. Ci sono anche delle frittelle. Qui ci sono un po' di posti dove probabilmente vieni a farti una bevutina, una birretta, una roba del genere. Li chiamano spot. Questa è la riparazione di televisore. Queste casse vanno, ogni tanto ne trovi una. Bello questo edificio. E qua siamo arrivati alla piazza principale dove c'è la statua di Nanakobinagilan. Scopriamo che questo è un uomo molto importante perché praticamente era il capo di una tribù locale che ha combattuto contro gli inglesi quando sono venuti a prendere il posto degli olandesi che già erano a loro volta venuti a prendere il posto dei portoghesi. Insomma tutta una storia di colonialismo anche qua. Beh gli inglesi hanno vinto, è diventato territorio loro e quest'uomo l'hanno esiliato in Sierra Leone pensate per quasi trent'anni. Dopodiché è tornato, è ritornato adesso una persona molto importante, ma dopo pochi anni è morto. La nostra casa è la solitaria, tra le palme, in mezzo al parcheggio. Grazie a tutti. Eh sì ragazzi, inizia a piovere. È iniziato proprio in questo momento, probabilmente non durerà tanto, però è la stagione che pian piano sta arrivando, magari lentamente, ma sta arrivando. O forse lo farà da un giorno all'altro, chi lo sa lo scopriremo credo. Ci troviamo qua davanti questa fortezza che vogliamo andare a visitare questa mattina. Adesso magari aspettiamo che smetta di piovere. Ma d'altronde è ancora abbastanza presto e le visite non sono ancora iniziate, mancano un paio d'ore. È davvero una costruzione incredibile, molto importante, ma ve la racconto strana facendo quando andiamo a visitarla, perché ci sono un sacco di cose interessanti. Nel frattempo possiamo sentire per bene i pescatori che vanno e vengono sui barconi, ma anche il mercato che ha iniziato il suo lavoro. Da circa una mezz'oretta si sono iniziati a sentire le urla dei venditori che attirano i clienti. Devo dire che qua abbiamo dormito abbastanza bene. Il vento è durato un po' tutta la notte e dai, non ci si può lamentare, visto le temperature della stagione e della latitudine, non ci possiamo assolutamente lamentare, si è stato di bene. Certamente molto silenzioso, non ci ha distruvato nessuno. Bene, prepariamoci per questa visita, questa fortezza che è veramente molto importante, ma che racconta una storia di colonialismo, ma anche inerente la schiavitù. La fortezza è veramente imponente ed è stata costruita nel 1490. Pensate che è stata costruita molto velocemente, perché di fatto è un prefabbricato. Naturalmente noi adesso vediamo questa fortezza leggermente ristrutturata, però era una fortezza veramente molto robusta. Naturalmente ha visto anche diverse battaglie tra olandesi ed inglesi e anche tra portoghesi e olandesi, ma sostanzialmente rimane come l'hanno costruita. I portoghesi sono arrivati su queste coste intorno al 1470 e qui hanno trovato un sacco di tribù, ma la cosa più importante che hanno trovato è un corridoio di commercio. Corridoio che trasportava sostanzialmente oro, a quale i portoghesi erano veramente molto interessati. Era un corridoio sicuro, lontano dai paesi musulmani. Per questo nel 1490 hanno deciso di costruire questa fortezza, di fatto per proteggere questo corridoio che per loro era molto importante e molto proficuo. Qui ci troviamo ad Elmina e questa fortezza di fatto ha preso anche questo nome. Questa mappa ci racconta un po' quelli che erano gli scambi commerciali che avvenivano quando i portoghesi sono arrivati qui. Fondamentalmente qui non c'era tanta coltivazione, non è mai stato un territorio troppo fertile questo, ma c'era tanto oro che arrivava sostanzialmente da questa regione del mare e veniva trasportato proprio qui, nella Gold Coast, la costa d'oro come la chiamavano i portoghesi. I portoghesi sono arrivati qui e hanno costruito questa fortezza per loro. Ma in realtà pochi anni dopo che tutto ciò è stato costruito è stato scoperto il nuovo mondo. E che cosa hanno scoperto anche i portoghesi? Che in realtà era molto più profittevole il commercio degli umani proprio verso il nuovo mondo e quindi hanno trasformato sostanzialmente il business di questa fortezza dall'oro agli schiavi. E direi che possiamo proprio iniziare da qui, da questo corridoio che ci porta nel luogo in cui erano detenute le donne. Questo corridoio strettissimo naturalmente era già presente quando i portoghesi hanno costruito la fortezza. Inizialmente il luogo che stiamo per raggiungere era sostanzialmente un deposito. Vi faccio notare subito una cosa. Qui vedete dei mattoni rossi, mentre qui vedete dei mattoni gialli. Ma non solo! Qui ci sono delle rocce che sono molto più scure. Questi tre differenti materiali sono quelli con cui è stata costruita questa fortezza. Ma i mattoni rossi sono stati portati dai portoghesi perché, come vi ho detto all'inizio, questa fortezza era di fatto un prefabbricato. Tutti i materiali sono stati portati dall'Europa. Quando poi sono arrivati gli olandesi e hanno preso il posto dei portoghesi, hanno dovuto ricostruire un po' di parti della fortezza, anche perché durante la battaglia si erano distrutte e hanno usato i loro mattoni gialli. Mentre queste pietre più scure sono quelle delle fondamenta e sono pietre che sono state recuperate proprio qui in Ghana. Qui ci troviamo in una zona molto significativa perché è quella dove ci sono le celle dove erano detenute le donne. Sono tre celle differenti con una capienza che va dalle 120 alle 150 persone. In totale in questa area quindi erano detenute 400 donne. Entro dentro questa, che è la cella da 120 detenute. Vedete che è veramente piccolissima. Ma la grande particolarità qual è? Che adesso noi siamo entrati da una porta e questa porta naturalmente veniva chiusa, sprangata, tutta di legno. Quindi l'unico passaggio d'aria che c'era qui era quello dato da queste finestre. Pensate 120-130 persone chiuse qua dentro che avevano pochissima aria a disposizione. Ma non solo. Vedete che non ci sono bagni, non ci sono stanze dove andare a fare i propri bisogni. Quindi tutto veniva fatto per terra dove dovevano vivere anche queste persone che pensate stavano qui due, tre mesi prima di essere trasportate verso una nuova destinazione che loro naturalmente non sapevano. Qui siamo entrati dentro un'altra di queste stanze che ha sostanzialmente due finestre che servono per l'ariazione e per un minimo di illuminazione e una porta che veniva sprangata. Questa è la stanza più grande e qua parliamo di 150 persone. Quello dove stiamo camminando è il pavimento originale. La cosa incredibile di questa fortezza che è molto preservata, cioè non è stato fatto più di tanto per mantenerla come la vediamo oggi. Era effettivamente molto robusta e questo è quindi il pavimento dove dormivano queste donne. Qui vedete che c'è una piccola finestra e pensate che dentro questa stanza c'era il deposito delle armi e da questa finestra molto spesso i militari che proteggevano questa fortezza sparavano a chi magari stava in questa stanza e si ribellava. Naturalmente i militari non potevano entrare qua dentro perché sarebbero stati probabilmente massacrati. Erano persone che stavano strettissime e quindi dovevano far sentire la loro forza da fuori con le armi. In questo modo sparavano da quella finestra. Questa è la stanza più piccola e come vedete ci sono anche questi stracci che sono buttati in terra che sono la rappresentazione dei pochi indumenti quando c'erano che erano a disposizione delle donne che vivevano qui ma principalmente stavano nude. Qui gli esseri umani venivano trattati peggio che gli animali. Lucida adesso prende in mano o prova a prendere una di queste che sono le sbarre originali di questa prigione che naturalmente con il tempo ogni tanto venivano cambiate. Questo perché principalmente si arruginivano, si consumavano e quindi questa è l'unica manutenzione che veniva fatta. Quando le sbarre si arruginivano potevano essere magari rotte e quindi per sicurezza le cambiavano. Probabilmente non tanto. Sì perché ricordiamoci che questa fortezza è sul mare. Eh sì quindi la salsedina si mangia tutto. Se guardate il soffitto di questa cella ed è importante guardarlo perché poi con tutta probabilità cammineremo qua sopra, potete notare che ci sono queste travi che pensate sono ancora quelle originali. Questa, impreciso che sto indicando in questo momento, ha 500 anni. Mentre quelle che mi stanno adesso sulla testa invece sono state sostituite per manutenzione. Ce ne sono due che sono ancora quelle originali. Quella e questa. Adesso faccio aprire a Lucia una cosa importantissima. Questo che era sostanzialmente il bacino in cui veniva conservata l'acqua. Questa è acqua che arriva dalla montagna che sta qua vicino. C'è un canale sotterraneo che trasporta l'acqua qui. E pensate che questa è l'acqua potabile che avevano a disposizione i bianchi che vivono qua. Non era l'acqua a disposizione degli schiavi. Gli schiavi gli veniva data pochissima acqua ma arrivava dal fiume qua fuori, era acqua sporca. Non potevano naturalmente neanche farsi una doccia o un bagno. Le persone che venivano detenute qui per mesi non si lavavano mai. Ma qui vediamo una strana palla di cannone che è stata lasciata qua ma che pensate si trova qui probabilmente da 500 anni. Probabilmente non questa. Probabilmente ce n'erano anche più di una. Ma è molto importante. Come avete intuito questa fortezza naturalmente è a più livelli. Al pian terreno dove ci troviamo in questo momento c'erano i detenuti. Pochissimi militari che giravano qua. Tanto le persone erano sempre chiuse dentro. Non uscivano mai. Non è che avevano l'ora d'aria. Non uscivano mai. Fatta eccezione per un determinato momento proprio qui. In questo piazzale attorno al quale ci stavano le celle delle donne. Vedete quel balcone? Praticamente lì camminava il governatore di turno. Portoghese o olandese successivamente. Da quel portone ogni tanto questo governatore sceglieva una donna. Naturalmente qua tutte le persone che venivano a lavorare per quel poco tempo che rimanevano qua non portavano le loro famiglie. E quindi ogni tanto volevano una donna. Le schiave che stavano in queste celle, che molto spesso erano anche deperite, stavano messe veramente malissimo, uscivano e il governatore ne sceglieva una. Raramente probabilmente queste donne si opponevano. Quando lo facevano venivano incatenate a questa palla di cannone e rimanevano qua magari per tutto il giorno. Sotto il sole, senza cibo, senza acqua. E venivano messe proprio qua in mezzo dove tutte le potevano vedere per far capire che cosa poteva succedere se non accettavi il volere del governatore. Qualora invece questa donna avesse accettato avrebbe passato la notte con il governatore. Ma naturalmente prima sarebbe stata anche lavata, con tutta probabilità proprio usando quest'acqua. Guardate quest'altra piccola cella e guardate una cosa molto importante. Questo è il pavimento dove camminavano le persone che stavano al primo piano. All'ultimo piano, al terzo, stava proprio il governatore. La donna che veniva scelta naturalmente non è che passeggiava liberamente e poi andava in giro. No, passava da questa scalinata segreta che andava direttamente al piano dove stava il governatore. Questa donna camminava su queste scale e arrivava al terzo piano, là in alto. E credo che questo sia il filo conduttore per un'altra cosa molto interessante. Capitava ogni tanto che queste donne rimanessero incinta naturalmente. E quando succedeva a metterla incinta era stato certamente un bianco. Prima di lasciare questo posto le donne venivano controllate per capire se appunto erano state messe incinta da qualcuno. E qualora fosse successo la donna veniva messa da parte. Avrebbe lavorato qua come governante e i figli in realtà sarebbero stati educati con una scuola proprio locale fatta dai missionari. E qui in questo corridoio, che è quello da cui siamo entrati, c'è un'altra zona molto importante. Vedete? Qui c'è una stanza con uno scivolo. Pensate che questo scivolo è quello che usavano le donne che dovevano essere trasportate verso la porta del non ritorno. Si buttavano giù di qua, andavano in questa stanza, che adesso andiamo a vedere, e partivano. Perché usavano uno scivolo e non una scala? Perché queste donne stavano qua tre, quattro mesi senza mangiare, erano deperitissime. E le scale potevano essere veramente un problema. Quindi per fare prima le sbattevano giù da questo scivolo e praticamente le infilavano sulla nave. E quindi eccoci tornati qua fuori e vediamo bene i differenti piani con cui era costruita questa fortezza. Al pian terreno, come avevamo detto, stavano tutti gli schiavi. Qui sotto, in questa zona, in modo particolare, ci stavano gli uomini. Pensate fino a 600 persone. Adesso lo vediamo bene dove stavano. Al primo piano, di questo lato, c'erano i mercanti, i mercanti di schiavi. Quelli che li portavano qui e quelli che poi li commerciavano con i paesi in cui dovevano andare, le Americhe oppure l'Europa. In questo lato abbiamo al primo piano tutti i militari, quelli che stavano qui per proteggere la fortezza. Al secondo piano avevamo politici e militari. Mentre all'ultimo piano, quello più grande, che vedremo, c'era il governatore. E questa, pensate che è una delle celle dove stavano invece gli uomini. Come vedete, in realtà, qui di illuminazione e di areazione ce n'era ancora meno rispetto nelle celle delle donne. L'areazione, pensate, era data solamente da questa finestra. Ma forse la cosa più incredibile e drammatica che possiamo vedere qua è questo buco. Quello che sta qua sopra la mia testa. Pensate, è il buco da dove veniva passato il cibo. Pensate, 120, 150 persone qua dentro. Tutte incatenate. Il cibo era pochissimo. Stavano tutti qua sotto ad aspettare che gli venisse passato qualcosa da mangiare. Una volta al giorno, quando andava bene. E per ottenere quel poco cibo, lottavano tra loro. Molto spesso questi schiavi morivano cercando di procacciarsi il cibo che veniva passato da quel buco. Ma quest'altra stanza è veramente molto, ma molto significativa. E si trova proprio qui, a fianco a questa cella. Questa è la stanza in cui queste persone che venivano portate qui, e diventavano degli schiavi, venivano marchiate. Sia uomini che donne. Qui venivano marchiate a fuoco, con il brand del mercante che ne deteneva la proprietà. E naturalmente i governi ne traevano profitto, con tasse, con licenze, e chissà in quali altre forme. Il marchio era a fuoco. Pam! E pensate che era talmente drammatico e talmente dolorosa questa pratica, che molte delle donne, soprattutto, morivano di shock appena venivano marchiate. Ma adesso camminiamo in fondo a questa cella e raggiungiamo questa porta, che è veramente scurissima. E questa è la porta verso la stanza del non ritorno. Voi vedete solo la finestra, ma di fatto qua davanti a me c'è anche lo scivolo. È quello che vi ho fatto venire prima, da cui venivano calate le donne. Donne e uomini passavano attraverso questo buio corridoio ed arrivavano qui, in questa stanza. E la luce che mi sta illuminando arriva da quella che veniva chiamata la porta del non ritorno. Questa era la stanza del non ritorno. Donne e uomini attraversavano questo corridoio probabilmente insieme, ma naturalmente non si potevano parlare. E pensate che molto spesso erano familiari. Qualora avessero parlato sarebbero stati uccisi al momento. Il modo che avevano per comunicare tra loro, perché potevano essere familiari, era piangere. Il pianto era diventato la via di comunicazione che avevano a disposizione per quest'ultima volta in cui si potevano vedere. Questa porta, che ora vedete molto stretta, quando qui si commerciava l'oro, quindi sostanzialmente per pochissimo, era più larga. Si vede anche. Era stata fatta più larga, perché qua magari dovevano passare delle casse, dovevano passare merci più grandi. Mentre quando il business si è trasformato nel commercio degli umani, la porta è stata stretta. Noi siamo stati negli Stati Uniti, dove il commercio degli animali è importantissimo e questo ci ricorda il corridoio dove passavano le mucche. Questo per farle andare dentro i camion, ma anche per contarle. Pensate che l'avevano fatto stretto perché stando fuori era facile contare le persone che entravano dentro la nave. Io faccio veramente fatica. Le mie spalle quasi non ci entrano e provo a uscire qui e mi trovo nella porta del non ritorno qui in Ghana, a Elmina. Adesso davanti a me vedete questo campo da calcio, ma una volta l'oceano arrivava qui. La nave era proprio qua di fronte a un molo che stava qua. Qui c'era un piccolo ponte e c'era il molo. Ora è stato cambiato il paesaggio, è stato creato un canale, quindi la conformazione del territorio è cambiata. Ma la nave era proprio qua di fronte, quindi le persone che passavano di qua e camminavano su questo terreno era di fatto l'ultimo terreno africano che calpestavano prima di lasciare il loro paese. La porta è veramente strettissima e è veramente impressionante rimanere qui. Qui si commerciavano circa 4000 umani al mese. Pensate che questa tratta degli schiavi è andata avanti per centinaia di anni, dal 1500 fino al 1800. Qui sono passate veramente un sacco di persone. Pensate a quanti africani sono stati deportati dal loro paese e sfruttati come schiavi in chissà quale parte del mondo. Qui vedete che ci sono delle offerte, delle corone di fiori, delle bottiglie d'acqua, altri doni che sono stati lasciati dalle persone che sono le discendenti degli schiavi che sono passati di qua. Le bottiglie d'acqua sono dei doni che sono lasciati a commemorazione del fatto che chi passava di qua magari aveva anche un sacco di sete e questo è il motivo. Queste su questo lato della fortezza sono due celle. Sono apparentemente identiche da fuori ma forse veniamo allertati dal simbolo che c'è da una parte. Dall'altra parte non c'è. Un teschio con una X. Queste due celle avevano due funzioni diverse. In questa venivano imprigionati i bianchi. I militari che magari avevano combinato qualcosa, persone corrotte, gente che stava qui che aveva fatto qualcosa che non doveva fare. venivano imprigionati qua dentro. Venite. Qua dentro troviamo una cella piccola, angusta, quello che volete. Ma vedete che c'è una finestra? C'è un'altra finestra lì. Sono ben illuminato e sento anche un po' di brezza arrivare. Lucia mi chiude dentro, mi fa capire un po' quello che si percepisce ad essere chiusi dentro questa cella. Sembra un po' come essere messi dentro una cella di Alcatraz. Però effettivamente sento un po' di sollievo dall'aria, dalla luce. Qui le persone che venivano imprigionate ci stavano un giorno, dopodiché venivano rilasciate. Insomma, avevano capito la lezione. Ma questa era la cella dove venivano detenuti i neri. Gli schiavi che per qualche motivo si ribellavano e facevano una brutta fine qua dentro. Beh, intanto vediamo la porta. Entro dentro e capisco subito che questo è un posto diverso, ragazzi. Qua non ho nessuna fonte di luce. La porta che adesso Lucia chiude ha questa griglia che serviva sostanzialmente non tanto per l'aria, ma per guardare ogni tanto dentro e capire quando la persona che stava qui era morta. Sono illuminato da questa griglia e l'unica fonte di ariazione è un piccolo buco che sta là sopra. Il nero che veniva messo qua dentro veniva lasciato qua finché non moriva. Non aveva via d'uscita. Se venivi messo qua morivi, ma sostanzialmente era una morte lenta. Neanche ti sparavano. Aspettavano che tu morisse di fame, di sete. Era una tortura. Insomma, erano due prigioni ma con delle funzioni veramente diverse. Bene, ma adesso camminiamo sul fondo della fortezza e saliamo al primo piano e vediamo un po' come cambiava il mondo ai piani superiori. E intanto la prima cosa che percepiamo è un po' la brezza del vento che arriva dall'oceano. Camminando su questo corridoio si sta veramente bene. Qua ci troviamo al primo piano, quello dove da un lato c'erano i mercanti di schiavi e dall'altro i militari che lavoravano qua per proteggere la loro fortezza, per svolgere la funzione militare vera e propria. È una fortezza con una pianta classica, quindi con punti di vista su tutti i lati, che era effettivamente posta in un punto molto privilegiato qua sulla Costa d'Oro. Ma camminiamo per andare verso il fondo e raggiungere i piani superiori. Qua ci troviamo in una zona dove ci sono anche questi cannoni che naturalmente servivano a proteggere la fortezza. Pensate che potevano sparare fino a tre chilometri di distanza e naturalmente sparavano quelle palle di cannone di cui un esempio abbiamo visto giù, dove venivano incatenate le donne che si ribellavano al volere del governatore. La vista da qua è veramente magnifica e abbiamo anche la possibilità di vedere quell'altra costruzione che ce l'ha di fronte. Quell'edificio è stato costruito nel 1650, l'hanno costruito gli olandesi per raggiungere un punto di vista ancora più privilegiato alla Costa. Qualora avessero avvistato qualcosa da un punto un po' più sopraelevato, sarebbero venuti qua ad avvisare e di iniziare a prendere provvedimenti. Ed eccoci qua a camminare sui piani superiori. Questo è il pavimento sotto il quale c'erano le celle degli uomini, delle donne. Quindi le persone che camminavano qua, di fatto camminavano sopra i propri detenuti, sopra i propri schiavi. Questa è una stanza molto grande, molto arieggiata, è grande come una cella dove ci stavano 150 persone e qui invece in realtà ci stavano un po' di militari a mangiare. Questa era la loro sala da pranzo. E comunque insomma il numero di militari certamente non era basso, la densità non era certo quella di una cella. E qui c'è questa bellissima scala che ci dà accesso all'ultimo piano, quello dove stava il governatore. Andiamo a vedere. Cammino, questa scala di legno, veramente privilegiata. E ci dà accesso innanzitutto a questa stanza, con tre finestre. E questo era un salotto dove il governatore passava un po' del suo tempo. Aveva anche lui una bella vista sull'oceano naturalmente e anche su Valentino in questo momento. Ma è andando nella seconda delle tre stanze che aveva a disposizione che si capisce che privilegio aveva questo governatore. Questa era la sua sala da pranzo. Qui c'era il suo tavolo dove mangiava, dove probabilmente anche qui spendeva parecchio tempo. Ma qua in fondo c'era la sua camera da letto. La camera da letto del governatore era decisamente grande, con un sacco di finestre su due lati, quindi super ventilata. Ma pensate alle dimensioni. Qua sotto c'erano i sottoposti, lì sotto c'erano i mercanti, i militari. E sotto ancora c'erano le schiave, alcune delle quali ogni tanto se le portava qua. E come abbiamo detto, queste schiave passavano da un passaggio segreto che si trova proprio qui. Cammino in quest'altro corridoio. Trovo accesso ancora alla scala che mi porterà giù. Ed ecco qua. Vedete questa botola? Di fatto dà accesso a quella scalinata che abbiamo visto prima dal basso, da cui salivano le donne, che appunto passavano attraverso questo passaggio. Facevano questo breve percorso e andavano direttamente agli alloggi del governatore. Ed eccoci proprio qua, a camminare su questo balcone che abbiamo visto dal basso, dove ogni tanto le donne venivano fatte uscire per essere selezionate, dal quale anche probabilmente il governatore e i suoi ufficiali potevano un po' osservare cosa succedeva nella parte bassa, dove con tutta probabilità non è che andassero molto spesso. Lucia adesso sta camminando verso le cucine. Questo posto è stato occupato dai portoghesi, che l'hanno costruito, e dopodiché dagli olandesi, che hanno combattuto contro i portoghesi per accapararsi la proprietà di questo posto. E questa era la cucina che è stata costruita proprio dagli olandesi. Eh sì, c'erano due cucine. Questa che sta in quest'altra stanza è la cucina che avevano costruito originariamente i portoghesi. Quando sono arrivati gli olandesi, naturalmente non si fidavano di niente, quindi avevano costruito una cucina apposta per non usare quella che avevano lasciato i portoghesi. In realtà poi, quando qui sono arrivati gli inglesi diversi anni dopo, hanno usato tutte e due le cucine. Naturalmente qui, oltre a tutto il tema degli schiavi, ci sono state anche delle guerre per accaperarsi la proprietà di questo importante posto. E pensate che, naturalmente, i portoghesi, prima di lasciare tutto quanto, ad esempio avevano avvelenato tutta l'acqua del pozzo che abbiamo visto all'inizio, in modo tale che gli olandesi arrivavano qua e non c'erano da bere. Eh, in qualche modo poi hanno fatto. E proprio qua nella cucina degli olandesi mi viene da raccontare anche un'altra cosa molto interessante. Dovete sapere che quando sono arrivati ed hanno iniziato a combattere contro i portoghesi, i locali hanno provato a supportarli, probabilmente perché speravano anche che facessero smettere la tratta degli schiavi. In realtà non è stato assolutamente così, perché gli olandesi sono andati avanti proprio come hanno fatto i portoghesi. E camminando in questi corridoi arrivo in questa stanza enorme che, pensate, era il luogo di culto degli olandesi, che erano protestanti, non erano cristiani. E quindi qui avevano fatto la stanza dove pregavano. Questo è un luogo di culto e vedete il solito pavimento. E anche qua, sotto questo pavimento, in realtà, c'erano gli schiavi. Ci si può domandare come si possa pregare un dio sapendo che sotto hai delle persone che stai torturando. Però di fatto qui avveniva questo. Questa credo che sia una delle stanze più grandi di questa fortezza. Fortezza che, come vi dicevamo, è veramente molto grande. E pensate che è l'avamposto europeo più grande dell'Africa subsahariana. Naturalmente chi ha occupato questo posto magari ha fatto delle piccole modifiche strada facendo, se così si può dire. Però la caratteristica originale, la pianta, la costruzione, rimane quella originale portoghese. È un dedalo di corridoi, di cunicoli. Ci si perde qua dentro. E in questa stanza dove ci sono degli altri turisti, in realtà, vediamo quella che era una scuola. Questa era un'aula. E questa era proprio l'aula dove venivano educati i bimbi mulatti. Quelli che appunto nascevano a seguito di quello che succedeva qui con le donne. Questi bimbi venivano educati con un'educazione europea. Dopodiché svolgevano differenti attività qua dentro, diventavano anche missionari molto spesso. Concludo con una cosa molto importante. Pensate che gli schiavi che venivano detenuti qua, che venivano preparati per essere portati in chissà quale parte del mondo, non erano ganesi. Tutte le persone che venivano incarcerate, incatenate, in realtà arrivavano dai paesi circostanti. Nigeria, Togo, Benin, Costa d'Avorio. E a portarli qua erano proprio i mercanti stessi. Quelli che abitavano qui e che avevano accordi con i governi. Portoghesi o olandesi. Insomma, tutti ci guadagnavano. Il marchio che veniva messo, di cui abbiamo parlato prima, era quello del mercante. Ma naturalmente questo marchio, così doloroso, una volta arrivati a destinazione, veniva rimesso. Perché noi siamo stati negli Stati Uniti. Abbiamo visto che là a loro volta c'erano altri mercanti, a cui questi mercanti li vendevano. E quindi era tutto un marchio soprammarchio. Quella invece è la chiesa che avevano costruito i portoghesi, che in realtà poi quando sono arrivati gli olandesi hanno smantellato, l'hanno utilizzata per altre cose. Quando poi, sul finire di tutta questa storia degli schiavi, in realtà qua sono arrivati gli inglesi, hanno fatto di questo edificio tutt'altro scopo. Hanno fatto una sede governativa e ci hanno fatto anche una scuola. Qui venivano a fare anche attività fisica. Ad esempio, vedete, in quel robustimento della parete, hanno messo quei pali e servivano per arrampicarsi, per fare un po' di training alle forze di polizia, britanniche in questo caso. Concludo con una curiosità. Vi dicevo proprio all'ingresso che una delle cose interessanti di questa fortezza è che di fatto un prefabbricato era stata preparata tutto in Portogallo, dalle tegola ai mattoni, per essere trasportata qua, naturalmente su delle caravelle. Pare, non è certo, che su una di queste caravelle ci fosse anche Colombo, che poi sarebbe andato a scoprire le Americhe, ma poi di fatto avrebbe anche dato inizio a tutta la tratta degli schiavi, se vogliamo, visto che abbiamo capito che scoperte le Americhe hanno capito che forse il business migliore era vendere gli schiavi. A presto!